salve salve a tutti ci eravamo lasciati con una bet di dieci anni che cominciava a mostrare qualche segno di capirci qualcosa di scacchi e ora torniamo sul pezzo e abbiamo già la prossima sfida a disposizione sempre su chess.com contro questo bot che in persona la betharmon di queens gambit la famosa serie netflix a questo punto tocca la bet 15 n che è 1880 euro quindi in teoria dovrebbe in qualche modo darmi qualche pensiero in più effettivamente e vediamo però se ciò si concretizza in realtà abbiamo visto la sua predecessora se così mi concedete intanto vediamo una difesa indiana vediamo se fa la nimzo che aveva qualche problema con le inchiodature per ora la teoria la sa vedo questa 15 n aveva qualche problema con le aperture con le inchiodature e ne ho potuto approfittare per farle fuori qualche pedone così inopinatamente ok sto ancora giocando veloce ma non so quanto mi convenga di fatto vediamo un po questo cavallo vuole appiazzarsi qui non c'è problema vuole farmi fuori l'alfiere e lo lasciamo fare si intanto alla fine della fiera della fiera e l'alfiere cattivo me lo ritiro ok qua lascio un pedone impresa ci possiamo fidare perché c'è quest'alfiere a 4 che però qualche problema devo solo stare un pochino attento quindi ok si poi potrebbe provare a recuperarmi questo pedone però posso rientrare con alfera 5 forse vabbè proviamo un po' a vedere le abilità tattiche di questa bezza qui manteniamo la difesa del pedone mettiamo la donna una posizione plausibile giustamente come previsto c'è un attacco doppio posso difendere non so per quanto però sì in realtà abbastanza perché dopo al ferie b4 scelatore sotto che è la sposta quindi allora direi di provare a togliere di mezzo sto cavallo che è il pezzo mi dà un po più fastidio effettivamente ok mi sa che recupererà il pedone e forse qualcosa in più pure tipo quest'alfiere forse no pensavo avesse la spinta beach a 5 qui per intrappolarmi l'alfiere però gioca questa perché forse tiene un po troppo al cavallo quindi qui se gioco questa forse posso ancora salvarmi l'alfiere la donna così avanzata non mi preoccupa più di tanto ora c'è questa minaccia l'alfiere ancora ancora questa casa di ritiro ora che non c'è più il cavallo in e4 quindi posso tentare di arroccare sarà il caso però di cercare di salvaguardargli la vita a questo povero porporato famoso bishop inglese insomma se qualcuno ok ora si potrebbe prendere questo pedone c'è la vendetta delle torri però c'ha sotto il cavallo quindi non credo ci sia grosse preoccupazioni che salva il cavallo insomma rientriamo ora abbiamo un certo vantaggio materiale quindi si prova a cambiare le donne me lo concede ai ai salviamo molla alfiere e completiamo sulla colonna b quindi ci siamo fatti due pedoni di vantaggio che non è niente male ma vediamo però di sfruttarle a modo quindi prima cosa da un po' dare al re qua ci potremo anche amabilmente di far fuori il cavallo alleggeriamo un po' le truppe avversarie che fa sempre buono proviamo a crearci un avamposto in b5 e questa direi che è molto buona perché anche se cambia le torri poi rimango con l'attacco su questo pedone e posso difendere più o meno tutto bene stando con la torre nat 4 che blocca praticamente tutto il resto quale non può fare niente veramente si può venire avanti con il nostro quindi stranamente ha avuto qualche pecca strategica di troppo questa death ma qui l'unica cosa è stare un attimo attenti a cosa può succedere qua la correa è arrivato a difendere il pedone quindi potrebbe anche decidere di deviare l'attacco da qualche altra parte vabbè cerchiamo di semplificare un po' la situazione bene non vuole attaccare sto pedone e visto che ha mollato la presa e devo stare un attimo attento perché se vengo con torre a 1 c'è scacco e poi prende di infilata sono un po' bloccato qui allora proviamo a difendere intanto questo pedone evitiamo torre g3 difendiamo il bimbo ok questo mi da nuova linfa allora questo non si può ancora giocare ho idea eh e lui vuole entrare qua cioè lei scusate ma lui perché insomma mi riferisco al bot si non si può giocare nel torre f2 perché se no poi promuove questo pedone allora io quasi quasi no non la facciamo dobbiamo far questa si minaccia la spinta vai vediamo che si inventa la bimba allora tanto sta mossa si può dare così il re è costretto a indietreggiare dopo di che si difende il pedone si attacca qui ok qualche progresso è stato fatto ci ne freghiamo prima di questo scacco va sarei molto goloso diciamo di sì ok ora si può può porre la torre in una posizione più vantaggiosa che lui vuole far scaprettare sto pedone ma mi sa che si fa prima noi forse evitiamo di prendere scacco sulle avanzate del pedone ecco questa me la poteva anche risparmiare o forse no sì perché per fortuna c'avevo la promozione dietro allora un attimo fermi non facciamo cappellate proprio ora ok è andata vabbè qui si sacrifica la donna per il pedone ma si può promuovere allegramente e dopo di che questo è il finale classico ok quindi diciamo ho una bet che dà sicuramente qualche pensiero in più rispetto alla precedente ora si blocca sul bordo e poi si dà matto però comunque chiaramente qualche cappellata di troppo rivediamo un attimo se riesco a individuare al volo si può andare avanti con le mosse sì vabbè qui tutta l'apertura nota mi creo un buon centro di pedoni quindi che cambio quindi mi trovo con due pedoni al centro contro uno del nero provo a creare un'impedonatura ma non è nata ieri giustamente rimanda la minaccia al mittente io me ne frego dell'alfere camposcuro che è un pochino l'alfere cattivo della situazione comunque lo posso giustare su questo attacco ora qui è molto interessante perché giustamente con la tattica sembrava essere riuscita a evitare che questo pedone in presa divenisse un vantaggio perché a parte guadagnare spazio con questa mossa d'alfere poi può attaccarmi alfiere e questo pedone l'unico modo per coprire tutto a meno che mi stia perdendo qualcosa è quello di ritirare l'alfere in modo che difenda il pedone anche questa mossa forse se la poteva risparmiare probabilmente ah si è proprio no non se la poteva risparmiare l'avevamo vista perché dopo che mi spinge questo pedone prima di spingere a5 con alfiere b4 avevo l'opportunità di attaccare il latore quindi la sposta subito che è una cosa insomma che ci sta ovviamente io ho questa armata di pedoni che mi sta venendo in faccia quindi devo prendere dei provvedimenti non li prendo però comincio ad attaccare questo cavallo che chiaramente fa pressione su questo pedone dopodiché mi spinge il pedone in faccia qua non capisco perché non giochi questa perché si spingeva lì di fatto io posso prendere il cavallo ma mi riprende di pedone e rimango col cavallo attaccato e con l'alfere attaccato allo stesso tempo quindi probabilmente qui poteva guadagnare un pezzo credo non so a costo di quanti pedoni perché uno l'ha già perso quindi boh però decide di giocare decide di giocare alfiere b5 che probabilmente non è il massimo della vita infatti cambio dopodiché lascio sempre questo problema di questa spinta però forse la posso risolvere così cercando di togliere il cavallo quindi di fatto se qui mi spinge in faccia posso cambiare il cavallo dopodiché cioè se mi riprende l'alfere mi salvo il cavallo e quindi tutta festa invece se sposta il cavallo mi rimane questa casa libera per far fuggire sto poveraccio l'alfere tra l'altro ora qui c'avevo pure sta spinta non so se in varianti vabbè si la donna c'è arrivata ora quindi si proprio questa togli l'alfere da 4 è stato veramente una ciofeca però vabbè qui prova a salvatuto ormai l'alfere mio è completamente al sicuro può andare in D6 senza problemi prendo pure questo pedone provo a cambiare le donne ci riesco e dopo aver semplificato tutto è anche abbastanza facile qui cambio pure i cavalli mi concede questa grazia e mi creo questa serie di pedoni passati con pure attacco su A5 costretto a difendere dopodiché è solo una questione di non cadere in trappoloni come quello che abbiamo visto qua tipo se la torre voleva rientrare in gioco mi sarebbe beccato questo scacco ops se la torre tipo la volevo giocare chiaramente non in A2 perché ci sarebbe stato subito torre H2 con l'infilata ne perdevo la torre dovendo spostare il re quindi per esempio torre A1 c'era comunque torre in H2 e il mio re sarebbe dovuto andare sulla prima traversa e poi mi sarebbe beccato l'infilata comunque alla mossa successiva quindi un attimo di occhio tattico ci vuole lo stesso per evitare queste mega cappellate dopodiché mi creo una spinta per questa falange in modo da sfondargli il re dopodiché dico va bene mi prendo questo pedone in cambio del pedone e dopodiché entro di torre a sostenere i pedoni qui l'unico problema è che anche questo pedone promuove di fatto però posso guadagnare dell'alto tempo andando pure con la torre sulla colonna e questo sembrava un errore non mi ero accorto però chiaramente un dei due pedoni sarebbe stato promosso quindi guadagno la torre e promuovo dopodiché posso tranquillamente promuovere sacrificando pure la donna sul pedone e dare matto ok direi che qualche differenza in meglio si è vista ancora una bet che però non credo sia davvero a livello di 1880 forse è un livello calcolato sulla velocità con cui muove quindi sta muovendo per partite più o meno blitz per non dire bullet muove molto veloce quindi c'è poco tempo di calcolare effettivamente magari è un elo calibrato per il gioco molto rapido quindi se si trova a giocare partite in cui io posso pensare anche mezz'ora chiaramente poi povero bottino non credo che ne esca senza le ossa rotte però vediamo il prossimo step non sarà una delle cose più facili della vita perché qua viene dato un rating di 2400 elo con la bet 17enne ora c'ho già giocato quindi non so se notate ma è andata benino però magari è stato un caso sicuramente sarà una sfida nella sfida ok quindi per questo video è tutto direi che ci vediamo al prossimo la bet 17enne eccola qua che ci aspetta per la prossima puntata a presto e ciao ciao ciao